Ciao ragazzi, molti mi avete chiesto cosa è successo al Rolex 16713 del video GMT Disaster un nome che era veramente azzeccato per tutto quello che abbiamo visto all'interno il danneggiamento da colpi estranei, da foddo, come vi ho spiegato proprio in apertura quel orologio è stato rimesso in efficienza, è stato rimesso in efficienza dalla concessionaria è ufficiale, però purtroppo non c'è mai limite al peggio difatti oggi vedremo in questo video, diciamo la seconda parte poi visto che la seconda mi sa che non c'è due senza tre, quindi ne vedremo anche una terza ma cosa è successo? Un piccolo urto, un piccolo urto ha creato qualche danneggiamento che adesso andremo a vedere, poi faremo qualche considerazione finale purtroppo sono cose che capitano, però qui di mezzo c'è la sfiga perché la sfiga la fa da padrona su questo orologio, quindi forse è un po' da mandare all'Urd va bene dai, prima di andare a vederlo però mi raccomando iscrivetevi a WatchFun mettete in pausa il video, c'è la campanella, cliccate la campanella così magari ci faremo due risate così formative anche successivamente adesso andiamo a vederlo lo riconoscete? Penso di sì, è una vecchia conoscenza questa però oggi giocheremo un po' a Flipper, vedete? infatti si è staccato un piccolo, un indice a ore 11 che andiamo a vedere eccolo qua, per la precisione, giusto? eccolo qua che va un po' in giro per il quadrante bisogna fare molta attenzione perché può andare nella fessura del disco data e quindi delle volte è necessario poi rimuovere il calibro togliere le sfere e andare a riposizionarlo sperando che non vada comunque poi a rovinarsi ancora perché questo è un indice come stiamo vedendo qua sotto è intrezio, quindi è importante andarlo a riporlo nel migliore dei modi al suo posto ma guardate la cosa più particolare questa è la sfera delle 24 ore guardate in che stato è purtroppo l'urto ha piegato a causa dell'urto si è piegata proprio l'albero diciamo la sfera, proprio la radice sarà molto difficile poi sistemare questa sfera, questa lancetta perché siamo proprio in posizione contraria fate caso, magari, non so, un'articolazione che viene ovviamente fratturata e questa andando a piegarsi magari nella direzione opposta ecco il danno, il danneggiamento che si viene a creare guardate dove risiede poi la sfera delle 24 ore ovviamente sta sotto la sfera dei minuti però il triangolino potrebbe essere, come dire, calzato proprio sotto la sfera andando a forzare magari anche in punto di rimozione delle sfere stesse ricordate che su questo orologio avevamo visto parecchi danni in primis, eccola qui andiamo a vederla un attimino la lunetta, adesso ruota in entrambe le direzioni ruota anche bene seconda battuta avevamo, beh le sfere sono rimaste originali, coeve seconda avevamo la corona, corona sostituita quindi anche con una buona sospensione che va a chiudersi questa è una corona, vi ripeto, in oro e quindi bisogna fare attenzione anche quando si calza perché l'acciaio del canotto ovviamente vince il materiale il materiale della corona che è in oro, quindi attenzione sempre con gli orologi quando andate a chiudere non impiegate proprio la forza bruta per evitare che si rovini e altre cose, beh il quadrante è a posto tranne questo gioco da flipper che stiamo vedendo in questo momento e andremo a vedere poi cosa si c'è l'acqua dietro, anche quando, fate attenzione perché un'altra cosa quando si rompono dovesse rompervi, facciamo corno, il vetro del vostro orologio fate attenzione a non toccare assolutamente la zona dell'incidente cioè tutto il quadrante perché il vetro miniaturizzato una volta frantumato sono delle schegge molto molto taglienti, noi non ce ne accorgiamo perché ovviamente siamo un po' più grandi di una scheggia ma se fossimo piccoli quanto una scheggia beh altro che coltelli e quindi possono andare a rovinare tutto il quadrante in particolar modo quando parliamo di orologi che hanno un quadrante iridescente mi riferisco al blu, mi riferisco al verde che hanno quel classico riflesso a soleil che abbiamo visto altre volte, beh sul look il riflesso è quello più evidente quindi fate attenzione, mi raccomando, come quando dovesse, nel caso in cui dovesse entrare dell'acqua salata, attenzione subito portatelo da un tecnico, da un orologiaio e cercate di far mettere mano ASAP al vostro orologio per evitare danneggiamenti ulteriori ma la cosa più importante se dovesse rompersi mai il vetro attenzione perché ogni minima scheggia può andare a rigare il vostro quadrante quindi cercate di lasciarlo così com'è, la zona dell'incidente è come in CSI e portatelo in riparazione andiamo a girarlo, lo giriamo da questa parte per evitare che il piccolo indice si vada nella parte sotto e questo è il movimento che abbiamo visto nel video GMT Disaster questa volta possiamo girare tranquillamente la massa oscillante andremo a vedere poi nei particolari cosa è successo a questo orologio e le operazioni di ripristino che hanno ridato vita a questo movimento e difatti se andiamo a fare le nostre operazioni ecco abbiamo innestato l'albero se andiamo a fare le nostre operazioni di carica innanzitutto la massa oscillante si muove bene non sono presenti i giochi assolutamente questi sono i punti di interferenza con l'organo che era in questo punto che sprofilava quindi andando a battere guardate proprio sulla sulla testa della vita ha creato questo danneggiamento che abbiamo visto nel video GMT Disaster e adesso questo è ritornato un GMT Master a parte l'urto che questo orologio ha preso difatti vediamo anche qui la testimonianza qui c'è stato brutto incidente adesso ripartiamo la puntata questa è la puntata numero 2 andiamo a darci uno sguardo veloce così in macro giusto per vedere anche le operazioni di ripristino che cosa hanno rimesso in efficienza siamo ritornati all'interno del nostro GMT Master che abbiamo già visto in un episodio sfortunato di questa serie stiamo andando a ridare un'occhiata a quello che è capitato soffermiamoci subito sulla parte incidentata andiamo a vederlo guardate ecco la piega che ha assunto la sfera delle 24 ore difficilissimo questa da rimettere a posto vedremo magari poi cosa succederà e guardate il colpo l'urto che ha danneggiato questa lancetta andando a portarla in sostanza sotto la sfera dei minuti dove normalmente già risiede la lancetta ma da questo punto non riusciamo a vedere se è rimasta incastrata o meno questa è la sfera delle ore e quindi l'orologio è più o meno quello che abbiamo visto guardate questa cava questo è l'indice ore 11 che eccolo qua che ha subito il distacco del trizio qui siamo ore 10 indice normale questo qui è ore 11 superficie lunare andiamo a vedere dove è finito se lo ritroviamo eccolo qua e difatti l'indice è lì che riposa un po' in attesa di essere ripescato per essere poi messo al suo posto e questo è il nostro ci metti la seconda parte di questo tra virgolette caso che stiamo che stiamo seguendo lato del movimento questa è la zona incriminata andiamo a vederla eccola qua questa è la zona incriminata guardate questi segni sulla struttura questi sono stati determinati dagli urti ecco provocati dalla massa oscillante in questo senso quando la vite ha iniziato a prendere gioco ovviamente fuoriuscendo incontrava la massa oscillante in velocità e quindi colpo dopo colpo si è andata a creare questo danneggiamento superficiale prima superficiale asportando la rodiatura e poi alla fine tra virgolette strutturale anche se non è proprio di entità maggiore questo invece è sulla seconda estremità giustamente perché la massa oscillante beh non è necessario ricordarvelo in bidirezione può andare ecco ortare anche in questo senso quindi guardate eccolo qua questa è la zona proprio incidentata per il resto stiamo andando a osservare ecco guardate per esempio il castone del binacere nulla a che vedere con quanto abbiamo visto già in passato volantino pulito la nostra spirale breguet questa non è paracrom la potete vedere è una spirale in acciaio classico qui abbiamo i nostri andiamo a fare un po' di zoom i nostri invertitori andiamo a vedere se c'è del gioco qui c'è un po' di gioco e questo è il rocchetto di carica ruota corona andiamo a vedere sulla ruota corona questa è la ruota corona dell'impegno con rocchetto e abbiamo fatto ecco una seconda puntata anche sulla parte posteriore di questo rolex gmt master beh non era sicuramente messo bene quando un orologio subisce un urto specialmente prendendolo di taglio c'è il pericolo che beh in questo caso questo orologio funziona se andiamo a scalzare le sfere funziona va bene però quello che non avete visto è che tutta la parte sotto il quadrante è stata compromessa da da questo urto insomma ci sono due rinvii che hanno subito il danneggiamento dei denti quindi non si può fare a messa allora la ruota 24 è in buona salute però anche quella è da ispezionare considerate che oltre alla parte strutturale che è l'ESA nel punto in cui c'è il dent d'impatto beh le ruote del treno rottismo non hanno avuto problemi difatti se prendete se prendiamo e svuotiamo questo orologio di tutta la parte di indicazione insomma abbiamo solo bilanciare treno rottismo e molla è un orologio da da 323 gradi di amplitudine quindi voglio dire il lavoro che avete visto di ripristino e di rimesso in efficienza del calibro è più che ottimale si vede rimane soltanto quella che è la l'impronta d'impatto con la testa della vite che si era svitata dell'automatico come avete visto però ciò nonostante non si compromette assolutamente il funzionamento della è il sostentamento di carica del sistema dell'automatico bisogna fare attenzione perché in alcuni casi io lo dico soprattutto quando vedo in giro certa gente che magari non è appassionata come noi di orologi però li vedi con questi finali che ballano avete presente come quando in autostrada magari vi sorpassa una macchina che ha la copertura sotto il motore quella sorta di cover che va a coprire il motore che sventola per via dell'impatto con l'aria stessa cosa io delle volte vedo in giro dei finali dei bracciali per vizio di forma io guardo sempre più o meno gli orologi delle persone che volete anche voi sarete così sicuramente comunque guardo questi orologi e i finali li vedete sventolare peggio dei faldali dei tetti quando c'è vento e quello è il primo quello è il primo segnale di un evento che può capitare come purtroppo è capitato a questo orologio voli di due metri che ha una certa velocità vi ho detto si raggiungono anche 8000 g 8000 g 8000 g mica 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 vizze e fichi 8000 g si può distruggere un orologio sempre comunque in funzione della massa della velocità adesso noi che siamo dei fisici quindi non andremo a fare questi questi calcoli ma questo è quanto poi alla fine dicono anche i testi non sono cose che dico io quindi bisogna fare attenzione alle cose basilari normalmente se un orologio ha un finale che sventola come vi ho detto magari non è proprio di qualità eccelse però ricordiamoci che il finale è un elemento che fa parte di tutti gli orologi e a maggior ragione se non è manutenuto l'orologio il sudore va a danneggiare proprio il perno del finale quindi quello può essere la causa radice di tutto la causa radice si intende la causa principale per cui l'orologio si è danneggiato adesso questo non si è danneggiato a causa di non so cosa c'è stato un urto ma quell'urto è stato causato da un fattore scatenante in questo caso potrebbe essere un finale non è in questo in questo particolare evento che è stato il qui c'è stata una piccola disattenzione ma bisogna fare un po' attenzione beh come si diceva nel film Cast Away non vorrei mai voltare le spalle all'orologio moriamo e viviamo in funzione del tempo quindi per noi che siamo appassionati sicuramente non mancherà mai dare uno sguardo al nostro orologio è stato un video interessante vi dicevo in apertura questa qui non c'è due senza tre perché magari vedremo la terza parte in futuro che ne so però sono tutte cose interessanti purtroppo paga il prezzo questo questo orologio che è un po' sfigato per via di di questo brutto incidente questo è proprio un incidente non è un inconveniente non è un'anomalia è un vero e proprio incidente che ci dà comunque dimostrazione di cosa può capitare comunque nonostante tutto questo orologio funzionava vi dicevo 320 gradi circa di amplitudine a carica a carica massima e quindi è donata anche la qualità di questo orologio voi avete visto una una sfera 24 ore girata come se fosse un ginocchio girato al contrario le immagini erano chiare però tutta la parte degli alberi era era integra e quindi ci sono delle volte invece dei movimenti che magari cadendo da un'altezza scusate di un metro e mezzo si vanno a vanno a danneggiarsi vanno a rompersi proprio tutti gli assi a seconda del punto proprio cadendo di taglio vanno a rompersi tutti gli assi nelle sedi dei rubini e quindi andando a vanificare ogni intervento di riparazione poiché tutto è da sostituire delle volte vi salvate magari soltanto le platine e i ponti beh vi ho fatto un bel un bel video spero vi sia interessato piaciuto mettete un like iscrivetevi anche a WatchFun non dimenticatevi di pigiare la campanella così sarete avvertiti su altri danneggiamenti su altri video scusate e ci vediamo preso ciao ciao